Se sbaglio un edit il video finisce Ragazzi vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop sul supporto a un creatore Inserite il codice creatore porto così come lo vedete scritto a schermo Accettate, da ora un acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi ci siamo, stiamo a The Agency per tentare la sfida di oggi che Se sbaglio un edit il video finisce Siamo con Meglia, c'era un tizio su Io non capisco perché non ci sia il reticolo all'interno del mio gioco Non c'è il fottutissimo mirino, questa cosa ragazzi è gravissima È la partita di prima che non so perché il reticolo è scomparso Provo a rimetterlo, non lo so Reticolo, apply E non c'è, ah non c'è Ok va bene, non so perché ragazzi ma prima non me l'aveva dato Scusami, ok, buonasera Allora abbiamo ci sta roba Assolutamente niente Magari questa me la tengo però Bro, 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 bro Non facciamo cazzate, non facciamo cazzate, calmi tutti Devo un attimo fare questo Mmm, sì ma non ho scheda del bunker Meglia non può sentirmi ragazzi Però non credo che lui sappia che io non ho scheda del bunker Vabbè, allora facciamo una cosa Passiamo per di qua, questo me lo devo, questo me lo metto di qua Ok Eliminato, diretto Ho avuto una fortuna piuttosto accesa in questo caso diciamo No, quanta gente c'è Cavolo Tengo veramente eliminato miglia Calmi tutti Molto matura da parte tua, complimenti Bella Ok Andata bene ragazzi Cavolo, cavolo Quattro kill sulla mia ci stanno tutte Meno male Non ho miglia fermo Vabbè, faccio così dai Fermati Meglia No Ok, se lo vuole fare ragazzi Credo proprio di sì Allora, questo tipo Aveva l'arma di Midas Ma Ah, ok, sta qui Meglia ti prego, prendila tu, grazie Edit Uh, mamma mia ragazzi Che panico Che panico Io lo so che facendo una di queste cazzate Faccio concludere il video Ne sono molto più che consapevole Sicuro però Allora, aspettate Sfondiamo un attimo qua Ok ragazzi Stiamo andutando un attimo Per cercare insomma Di tenerci pronti A eventuali fight futuri Qua mi sono preso anche il travestimento Così vedo di aprire questa cesta Vediamo un attimo Oh mio dio Come ha messo la OG in quei tanti Allora vediamo Come target lost Dai, mamma mia Che noia Cioè se mi giro non va più bene Ok A posto Eh, roba un po' carina Diciamo di sì Dai, soprattutto li vedo di cure Speriamo che Meglia possa portarsi tutto Dai Meglia Ok, a posto Andiamo Ok, più o meno la safe si è chiusa su di noi Molto vicino a noi Eh, voglio vedere se riesco a incontrare qualcuno ragazzi Perché sono andato sia in una zona di Celti Sia a Vivi e Vuz Però non abbiamo trovato ancora nessuno Di solito Eh, vabbè Ok, ma la so chiamata? Sì, più o meno sì Vabbè L'hanno massacrato Meglia Ottimo La so chiamata di brutta, regà Vabbè È stato molto stupido da parte sua sinceramente Non so perché abbia giocato così male Però, va bene Questo mobiglio io Non ti offendere Fra E mo tengo Questo Dai, se vuoi Queste due cose se le tieni tu Ok Io non so perché È come se parlassi da solo Io lo so che sembra ridicolo ragazzi Lo so Però, vabbè Comunque il rampino è utilissimo ragazzi Perché lo potremmo tranquillamente utilizzare Per muoverci di continuo Ad una velocità strabiliante Veramente una cosa OP incredibile Con colpi infiniti è ridicolo Veramente con colpi infiniti è ridicolo Non so perché esista Dai Meglia è uno Non facciamo stupidaggini che è uno Calmi Ah Cavolo Volevo aprire io Oh Calmo 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 Veramente Che noia Sto tipo Dai Lascia stare Cioè Boh Ok Dai Andiamoce Vabbè Io posso fare anche una cosa più veloce così E poi rientrare nel safe Evito di farmi fare troppi danni ragazzi Lascio meglio un attimo indietro Giusto perché poi Non mi voglio utilizzare troppi colpi dello sparamento Nello stesso momento Quindi farò così Ok Dai Ok vabbè lo aiuto un attimo di così Perché non so quanto sia pericoloso Il fatto che si perdono così tanta vita Vabbè poco Forse non sono riuscito a curarlo Easy Ok Vediamo qui Questa è una zona di solito pure che ha Cose carine mi pare Perché è una zona tipo di agency Però è stata tutta lootata Aspettate però sopra c'è una cesta interessante Si sta scaricando il dual shock Cavolo Non è una bella cosa Mi pare di aver sentito una cesta epica Ora vediamo un attimo ragazzi Questa è quella normale Va bene Non ci sta niente Ci fa sempre molto piacere Qua ci sta quella epica Vediamo Ah Ok Vabbè Io faccio cambio Cavolo ho sparato per sbaglio Mi sono fatto sentire Vabbè Mi mancava Insomma vedere quanto era Bello muovermi con rampino Veramente ti dà una mobility incredibile Qualcosa di folle D.O.P. Ah Gente Ok Io posso andare in safe Anche velocemente Quindi credo mi convenga Dai A parte che costo lag Ragazzi non sto a capire niente C'ho 100 di ping fisso Ridicolo Vabbè io con 100 di ping Quando dovrei mai colpire lo sto tipo? Cioè Non basta solo la mira Devo avere pure certo Che il proiettere ci arriva come si deve Non credo che abbiamo un jump Altrimenti Meglia ne avrebbe Già piazzata una Non so se ci sono ragazzi Sinceramente Non l'ho capito Non so se ci sono ragazzi Assolutamente Grazie a tutti 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 Grazie a tutti